Ci troviamo qui per fare memoria in modo molto particolare di Odoardo Focherini, carpigiano di nascita e mirandolese di adozione, che come sapete durante gli anni del secondo conflitto mondiale e della Shoah ha rischiato e dato la sua vita per la salvezza di fratelli ebrei ingiustamente perseguitati. Questa giornata la dedichiamo a lui, alla sua vita e a ciò che ancora insegna per la nostra quotidianità. Per questo abbiamo cercato di riunire le rappresentanze di alcuni degli aspetti della vita di Odoardo, la famiglia, le sue passioni, la sua fede, l'attenzione ai giovani, la sua scelta di aiuto e il martirio, perché possiamo tutti insieme ricordarlo e ravvivarne la memoria. La figura di Focherini va approfondita perché è un patrimonio straordinario e noi lo racchiudiamo all'interno di alcuni che sono patrimoni di questi territori. Ho avuto modo di andare a Flossenburg e Ersbruck, il sottocampo dove Odoardo Focherini ha perso la vita. Ersbruck non esiste più, Ersbruck è un parcheggio e di fianco c'è una spa, di quella dove si va a fare i massaggi e i bagni caldi e non si capisce più niente, non si capisce che lì c'era un campo che era un campo di lavoro forzato che portava allo sterminio. Io ho provato assieme a tutti i carpigiani che erano con me in quel momento, carpigiani non solo, eravamo un pullman di area nord diciamo così, una tristezza incredibile perché cancellare la memoria è uno dei torti più grossi che si possano fare. Non riuscire a ritrovare lì i segnali di quella tragedia danno un senso di sconfitta che è doppio, dove la tragedia viene rimossa e non rimane un patrimonio delle comunità. Bene, allora penso che una pietra di inciampo non sostituisca per carità il fatto che là Ersbruck non è più visibile, però quella pietra di inciampo lì è un mattoncino che fa in modo che qualcuno si ricordi che Ersbruck c'è stata e secondo me questo è molto importante. Inviterei a venire insieme il Vescovo e il Rabino delle nostre comunità. credo che quello che sia importante ricordare e non dobbiamo mai dimenticarlo è la ragione per la quale Odoardo Focherini ha fatto tutto quello che ha fatto e che altrimenti corriamo il rischio di costruire una casa senza le fondamenta. E Edoardo Focherini ha fatto tutto quello che ha fatto per il bene dei fratelli, per il bene dell'umanità, perché era un cristiano, un cristiano tutto d'un pezzo che viveva in maniera seria, coerente, impegnata il Vangelo. Ecco allora questa pietra di inciampo è una pietra di inciampo che è il frutto proprio del cristianesimo, della fede che Odoardo ha vissuto e tante volte anche oggi essere cristiani veri e autentici costituisse una pietra di inciampo. Leggeremo assieme in memoria di Odoardo Focherini, Zichrononi Verha, sia il suo ricordo di benedizione, il primo capitolo dei Salmi. Beato l'uomo che non ha seguito i consigli dei mailvagi, che non è rimasto sulla strada dei peccatori, né si è seduto in compagnia di chi deride ogni cosa, piuttosto ha riposto il proprio interesse nella Torah dell'Eterno e medita sulla sua legge giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso corsi d'acqua, che darà il suo frutto a suo tempo, le cui foglie non appassiranno e tutto ciò che farà verrà successo. Non così avverrà per i malvagi, essi sono come pula che il vento disperde. Perciò non riusciranno a scagionarsi i malvagi nel giudizio e i peccatori non sono inclusi in l'Assemblea dei Giusti, perché l'Oterno conosce e apprezza il comportamento dei giusti e sa che il comportamento dei malvagi conduce alla rovina. Grazie. Ci raduniamo intorno alla pietra di inciampo, la prima in provincia di Modena. E invito Francesco Lampronti e Giacomo Amati, rispettivamente pronipoti di Giacomo Lampronti e Odoardo Focherini, a scoprirla.